Giulia Salemi La notte appena trascorsa è stata parecchio agitata per Giulia Salemi al GFVip. I concorrenti, appena svegli, si sono riuniti in cucina per fare colazione tutti insieme. Ad un certo punto, però, Selvaggia e Stefania hanno raccontato un episodio increscioso che ha riguardato l'influencer. Per punto nello specifico, la ragazza ha cominciato a gridare disperata nella notte. I compagni d'avventura si sono molto spaventati, pertanto, hanno chiesto alla coinquilina di spiegare cosa sia accaduto. La sua risposta, però, è stata inaspettata. Notte difficile per Giulia al GFVip Giulia Salemi non ha dormito molto bene stanotte al GFVip. Ad un certo punto, infatti, ha svegliato i compagni di stanza con delle grida. In particolare, la protagonista avrebbe chiesto aiuto disperatamente. Dopo poco, poi, pare si sia vinghiata al suo compagno di letto. Selvaggia Roma ha raccontato la disavventura questa mattina a tutti gli altri membri del gruppo. Dopo poco, poi, è arrivata anche la Orlando, la quale ha chiesto a Giulia cosa le fosse successo. Dalla conversazione si è vinto che la protagonista stesse facendo un incubo. Stefania, allora, le ha domandato cosa stesse sognando di così macabre e angosciante. La Power Girl, però, ha preferito non entrare nel merito della vicenda, sta di fatto che ha ammesso di non voler parlare della questione così davanti a tutti gli altri membri della casa. La sua interlocutrice ha rispettato la sua volontà ed ha cambiato discorso. La Salemi confessa il suo malessere ad ogni modo, Giulia Salemi è apparsa molto probata durante il day time del GFV di questa mattina. La ragazza, infatti, è rimasta stranamente silenziosa per quasi tutta la durata della colazione. In le ore successive, poi, la protagonista si è sfogata con Maria Teresa e Giacomo Urtis ed ha svelato il suo malessere. L'influencer ha detto di aver fatto sogni agitati e non capisce il motivo. Lei è convinta di essere entrata in casa in una condizione molto serena ma, a quanto pare, c'è qualcosa che la turba. La ruta, allora, ha provato ad interpretare il suo inconscio e le ha detto che, probabilmente, avendo già vissuto questa esperienza nel reality show, il suo organismo la vive sotto forma di stress. Il malessere, dunque, verrebbe a galla durante i sogni. Urtis, invece, le ha detto che, forse, è in contraddizione con il suo io, pertanto, necessiterebbe di andare da uno psicologo.Segui Controcultura su Instagram, clicca qui. Controcultura su Instagram, clicca qui. A presto.